Si è conclusa da pochi giorni la prima personale dell'iniziativa Visiva P, la personale della pittrice Battesi Alessandra Gatani. Oggi siamo in compagnia degli ideatori, degli organizzatori di Visiva P, Norma Lamonica e Rosario Di Giorgio. Allora, Norma Lamonica sappiamo che è la testa, proprio l'ideatrice di questa iniziativa culturale di Piraino. Innanzitutto vorremmo sapere come è andata la prima personale, quindi un bilancio. Allora, la prima personale è andata abbastanza bene, siamo molto contenti perché ci sono stati molti visitatori e tra l'altro il luogo in cui è stato fatto, cioè il Palacultura di Dompino Puglisi, essendo anche un cinema, la gente era molto incuriosita e riusciva a visitare la mostra. Tra l'altro possiamo dire che è un bilancio positivo perché dal momento in cui è stata pubblicizzata l'idea di queste personali di Visiva P, molte persone si sono prenotate già da sole per venire ad esporre. Quindi è un bilancio positivo, diciamo. Ecco, allora noi torniamo un po' indietro. In estate c'è stata l'estemporanea. Come è nata l'idea di fare l'estemporanea e poi appunto le personali? Allora, l'idea dell'estemporanea è nata inizialmente doveva essere un concorso di pittura. Poi, riflettendoci con l'assessore Dovico, abbiamo pensato che era una cosa più originale, diciamo, fare un'estemporanea di arti visive, per cui ha compreso pittura, scultura, fotografia, performance e ballerini. Ed è stato molto bello questo perché praticamente abbiamo visto Piraino finalmente con gli occhi degli artisti e artisti che sono venuti da quasi tutta la Sicilia. Le prossime iniziative? Già avete in cantiere qualche altra cosa? Chi saranno i prossimi artisti? se già avete un programma. Abbiamo già una decina di artisti che vogliono venire a fare queste personali, che appunto alcuni fanno parte del portafoglio artisti di Visiva P e sono tutti pittori. E come dicevo prima, gli altri, alcuni invece, si sono prenotati già da sole. Quindi abbiamo voluto dare spazio a questi giovani locali che hanno appunto voluto avere la possibilità di esporre. Intanto prossimamente in programma abbiamo un corso di pittura che sarà aperto a giovani di tutte le età, diciamo. Allora, siamo anche con Rosario Di Giorgio. Mentre Norma, la Monica e la mente di Visiva P, di Rosario Di Giorgio e il Braccio. Allora, qual è stato il tuo ruolo nell'organizzazione di Visiva P? Tanto ringrazio Norma per avermi coinvolto in questa bellissima iniziativa comunque che si è creato un gruppo affiatato e ci divertiamo pure. Non solo è molto importante per il comune di Piraino farlo conoscere, ma anche noi ci divertiamo comunque. Sì, è detto bene, sono il braccio. Il mio compito era assistere gli artisti nel centro storico di Piraino per fargli conoscere comunque le bellezze architettoniche e paesaggistiche del paese. Divertente, perché anche io ho scoperto tanto, nonostante da 25 anni che sto a Piraino, tante cose le ho scoperte proprio quest'estate. Adesso continuerai a collaborare con, diciamo, per questa iniziativa di Visiva P? Sì, sì, senza dubbio. Come ho detto in precedenza, è una bella iniziativa interessante. Mi sta acculturando pure a me molto. Comunque sto conoscendo tante cose nuove. Ringrazio Norma comunque che mi ho coinvolto. Si continua. Lo staff è bello, affiatato e ci divertiamo. L'assessore Nino Dovico Lupo, assessore alla cultura del comune di Piraino, che ha fortemente voluto questa iniziativa culturale di Visiva P, ed è anche la colonna portante di tutta l'organizzazione. È un'iniziativa, diciamo, importante, perché oltre a dare spazio ai giovani artisti emergenti locali, è un modo per far, diciamo, crescere il paese, perché dove c'è cultura, dove c'è storia, c'è anche crescita. Sicuramente, intanto, grazie per l'appellativa di colonna portante, te l'ho rassuggerito sicuramente qualche mia cara amica. Diciamo, ovviamente noi siamo molto orgogliosi del progetto Visiva P, perché come dicevi bene tu, dove c'è cultura, sicuramente c'è crescita, c'è crescita sociale. Siamo molto contenti soprattutto perché Visiva P è un esempio fattivo, reale di progetto, di progettualità. Quindi è un'iniziativa che è partita in agosto con le estemporanea, dedicata alle arti visive, da qui appunto il nome di Visiva P, Visiva Piraino, in questo senso, e poi successivamente esplosa nelle due altre diramazioni. Una, abbiamo avuto il piacere di cominciare proprio qualche giorno fa con la mostra con le personali, quindi con la personale di Alessandra Catani, che tante belle risposte ci ha dato anche in termini di visibilità. Molti contatti sono stati sviluppati dalla stessa Petrice, che ha avuto più volte occasione di poter spiegare anche un po' la sua arte, insomma il suo modo di esprimersi a diversi visitatori che forse approfittando anche del fatto delle feste natalizie frequentavano il cinema. Quindi hanno avuto un bellissimo riscontro, tant'è che siamo già pronti con le nuove personali. E successivamente la prossima esplosione, diciamo così, il prossimo passo è quello molto più importante, quello che è un po' il risultato finale che vogliamo portare avanti è quello dei corsi di pittura per tutte le categorie, quindi pittura di base anche successivamente, anche corsi di pittura un po' più professionali, più accademici, perché vogliamo effettivamente coltivare, tirare fuori quello che è il tessuto artistico della nostra comunità. Quindi da questo punto di vista, diciamo, sono i risultati che vogliamo ottenere nell'arco dei cinque anni che abbiamo di fronte. A breve credo che Piraino sarà anche scenario della seconda edizione di un premio letterario, quindi cultura tutto tondo. Abbiamo la pittura, diciamo l'editoria, questo nuovo premio. Il premio letterario della Capannina è un altro esempio, un altro magnifico esempio dell'attività culturale di questa comunità. Quest'anno a grande richiesta sarà presentata la seconda edizione, abbiamo già fatto alcune riunioni con gli organizzatori, che sono Nino Faranda della Capannina, Nino Armenio, Pierluigi Garmeri, il professore Ferlazzo, che anche quest'anno si stanno impegnando, hanno già messo in moto la macchina organizzativa. Siamo sicuri che quest'anno avrà ancora più successo, viscerà il successo che ha avuto l'anno scorso in questa splendida cornice che è il salotto, come l'abbiamo chiamato, di Liaga, che si è prestato benissimo a questo tipo di evento, a questo tipo di manifestazione. Abbiamo anche rivitalizzato la biblioteca che ci sta ospitando anche per questa intervista con un'iniziativa che è piaciuta molto, è piaciuta molto alle famiglie, ai giovani, le biblioteche a parti, quindi con le biblioteche aperte nel periodo di festività natalizie ai bambini. Quindi da questo punto di vista devo dire che anche qui con una punta di orgoglio che c'è molto fermento da questo punto di vista. Abbiamo dal punto di vista culturale anche una scuola di musica, abbiamo una neonata scuola di teatro, di cinema e di teatro, che fra l'altro il 25 gennaio ci sarà la prima rappresentazione di questa commedia in cerca d'autore tra finzione e realtà con la regia di Italo Zeus e con sei bravissimi e giovanissimi attori proprio della nostra comunità pirainesi. Quindi devo dire che non ci possiamo lamentare da questo punto di vista. C'è tanto da fare ancora sicuramente, però abbiamo tutto il tempo, abbiamo molte capacità, abbiamo la fortuna di avere delle risorse umane sul nostro territorio importanti e abbiamo un valore aggiunto che è la grandissima passione di tanti e tanti cittadini che possono contribuire in maniera fattiva a questi progetti e al raggiungimento di questi obiettivi importanti. Allora siamo ad inizio anno, ancora sono i primi di gennaio, un augurio per il 2013, che cosa ti auguri? L'augurio è sicuramente quello di continuare, di continuare questo percorso di crescita che abbiamo cominciato da pochi mesi e che sta andando avanti davvero bene. Un augurio lo faccio, visto che parliamo di Visiva P, lo faccio agli organizzatori di Visiva P, che anche loro si stanno impegnando non poco per portare avanti questa bellissima iniziativa. Un augurio particolare lo vorrei fare a Normala Monica, questa artista, questa risorsa del nostro territorio che abbiamo prestato per qualche tempo a Brolo, ma che sta tornando alle sue radici e sta facendo molto bene per questa comunità. Sono sicuro che quest'anno anche l'estemporanea che si vederà ad agosto e il corso di pittura che sta arrivando avranno il successo che meritano. Ovviamente il mio augurio, il mio caloroso saluto va anche a tutti gli amici di Canale Sicilia, agli spettatori, ai telespettatori, ai web spettatori, visto che è soprattutto una web tv. Canale Sicilia che ci è sempre stata accanto e che a grande richiesta anche degli organizzatori di Visiva P sta per diventare, sta diventando praticamente il canale ufficiale della iniziativa Visiva P e questo ovviamente ci fa molto piacere perché è un rapporto che si sta consolidando e che sicuramente darà buoni frutti sia per noi sia per Canale Sicilia che continua anche lei a crescere. Grazie a tutti e un buon anno a tutti in generale.